Io credo che l'aspetto più drammatico, l'aspetto veramente più drammatico per una forza popolare è aver perso il rapporto con le persone. Io credo che questo sia uno dei motivi per cui anche scaturiscono tutte queste forme in qualche modo di insicurezza assoluta. Una forza popolare deve avere un rapporto con il popolo. Se non c'è questo rapporto, le persone si sentono abbandonate o non rappresentate, che è peggio. Non rappresentate, perché il problema vero è che siccome oggi, penso che nessuno in Genova sa benissimo che ci sono dei problemi enormi collegati, però il problema assoluto è non sentirsi rappresentato. Non sentire che uno conta, che ha un livello di utilità nella società in cui uno lo vede. Anche se è una persona che ha pochi soldi, che non ha tre lauree e che ha la terza media. Però è una persona che deve essere in qualche modo valutata e deve sentire che esiste un rapporto. Io ho visto più di qualche volta drammaticamente questa situazione proprio di assoluta indifferenza. e questo penso è una cosa che poi, quello che succede... Devo far riflettere un po'. Grazie.